benvenuti alla fiera milano mostra convegno in italia siamo qua come cofores per presentarvi la gamma di pompe di calore monoblocco eco air plus pro tutta una gamma tecnologie inverter refrigerante naturale r2 90 propano queste pompe di calore consentono di lavorare grazie all'utilizzo di questo refrigerante naturale fino a meno 25 gradi sterni con temperature di produzione di acqua calda sanitaria di fino a 75 gradi di mandata fino a 70 gradi in caso di applicazione per il riscaldamento sono sempre delle pompe di calore reversibili ok quindi in questo caso troviamo fino a quattro taglie tra questa gamma sono sempre delle pompe di calore come dico modulanti quindi un primo modello modulante tra 1 e 7 kilowatt un secondo modello modulante tra 1 e 9 kilowatt una terza taglia modulante tra 3 e 12 kilowatt e ultimo caso una pompa di calore inverter modulante tra 3 e 18 kilowatt nei primi due casi troviamo sempre la versione monofase sono delle pompe di calore disegnate per le applicazioni resistenziali di basse cariche basse perdite depredizioni nei secondi due modelli troviamo due varianti la variante trifase e anche la variante monofase sempre anche per la versione 3 18 kilowatt quindi un prodotto molto adatto alla rinnovazione energetica di impianti con caldaia che generalmente hanno impianti monofase dato che le richieste energetiche non sono così elevate a livello elettrico quindi una gamma che consente effettivamente di sostituire le caldaie e approfittare dei sistemi di emissione a radiatori in acciaio in alluminio o in ghisa queste pompe di calore sono tutte compatibili con l'ibridazione fotovoltaica il controllo standard delle macchine consente questa ibridazione non importando se si tratta di un impianto monofase trifase con un inverter o con un altro o con o senza batterie la pompa di calore può gestire il surplus elettrico procedente dall'energia fotovoltaica per fare un utilizzo termico di quell'energia lì queste pompe di calore possono quindi controllare l'acqua calda sanitaria il ricircolo dell'acqua calda sanitaria fino a tre gruppi di mandata sia in caldo che in freddo ognuno con la sua climatica per entrambi i servizi questi gruppi possono essere diretti o miscelati e possono gestire anche il servizio di piscina quindi qua vi presentiamo la gamma eco air plus pro